Musica Penso che sia un momento di confronto E' molto importante perché, beh, perché Consiglio a tutti da andarci, non lo so perché E' molto importante perché ci sono mai andato Serve per parlare dei problemi della scuola e cose del genere Ma potrebbe essere anche uno spazio dove parlare di altre cose Come può essere attualità, politica E' molto utile perché si... non so bene di cosa parlino, eh E' molto importante, molte persone negli anni passati sono battuti per questa... Non so cosa c'è E' una parte integrativa della scuola Vuoi finire perché... perché si parla sempre di me Noiosa E... A volte è interessante ma... Meno spesso E' un ottimo mezzo per informare gli studenti Soprattutto i ragazzi più giovani delle prime Su temi di attualità che normalmente non... Non si ha la possibilità di discuterne in classe E quindi è una cosa utile E comunque sarebbe almeno da provare un paio di volte prima di criticare Non ci sono mai stato Non ci sono mai stato, non è più da un cazzo però... E' un po' di più da un cazzo per la scuola ma anche per parlare di noi e se non viene nessuno però è inutile Non ci sono mai stato scherzo L'assemblea di istituto è da quattro anni E' da qui che sono un sacco di tempo e... Qualsiasi assemblea di istituto ci fosse stata Ci sono stato E... L'assemblea di istituto ragazzi mi raccomando Cioè avete... Voi avete le vostre idee E i vostri ideali E quello che vi pare Cercate di venire all'assemblea anche se solo per un'ora perché sono... Cioè parliamo di cose alla portata di tutti e che sono informazioni che non ci sono... Che non puoi trovare a scuola perché non te le dicono Dovresti guardare i telegiornali ma non penso che voi andate a vedere i telegiornali la sera E in conclusione ricordatevi anche che comunque l'assemblea di istituto è stata riuscita ad ottenere... Cioè l'abbiamo ottenuta grazie ai nostri progenitori Che hanno lottato per questo Quindi magari se non la buttiamo in eccesso è anche meglio Grazie Sono il presidente dell'assemblea di istituto e voglio voi Ora capisco la gente e il pallo d'attore quanto cazzo mi scivola Ah mi sono... Ma dai avete rotto il cazzo Ho capito anche se non guardo lì Neanche sto Gesù Cristo Io lo sguardo Ma chi se ne frega Grazie 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 Grazie